Bella ragazzi, vengo sempre ZAM che vi parla e come promesso oggi sono qui con il foto video diario di Stoccolma del quale vi avevo parlato e insomma oggi ho deciso un po' di fare questo esperimento, in genere vi porto video diari in cui io quando sono in giro registro solamente video poi li monto, metto un po' di musica sotto e tutto il resto, invece questa volta ho deciso di fare una cosa un po' diversa dal solito e che credo non si sia ancora vista su YouTube, ossia sempre una sorta di racconto ma fatta con le foto che spero siano di vostro gradimento e detto questo vi andrò un po' a raccontare quella che è stata la mia esperienza a Stoccolma allora sono partito insieme a quattro amici dall'aeroporto di Falconara proprio alla volta di Stoccolma abbiamo volato con Ryanair e avevamo deciso che saremmo rimasti in città per circa tre giorni dovevamo vedere parecchie cose e fortunatamente siamo riusciti a fare tutto allora, com'è fatta a Stoccolma? Stoccolma è composta da varie isole, tutte collegate da ponti quindi per spostarci inizialmente avevamo il dubbio, bicicletta, battello oppure pedalò pedalò però purtroppo c'aveva solo quattro posti, noi eravamo in cinque quindi scelta da scartare subito cosa ci ha fermato dal prendere i trasporti e anche la metropolitana? il semplice fatto è che a Stoccolma costa tutto il doppio, cioè la vita costa tantissimo magari perché lì guadagnano molto di più, onestamente non ne ho idea però vi dico solo che la Coca-Cola costa meno dell'acqua il cui prezzo si aggira intorno ai 2,70€ comunque vabbè, diciamo che il primo giorno l'abbiamo utilizzato un po' per orientarci in città e cominciare ad ambientarci e alla fine direi che ci si sposta piuttosto bene avremmo fatto sui 20 km al giorno ma ce la siamo cavata bene qui come potete vedere dalle foto eravamo appena usciti dal Fotografisca un museo di fotografia veramente molto bello proprio a Stoccolma penso sia anche uno dei più importanti al mondo e poi abbiamo trascorso il resto della giornata appunto girando un po' qua e là per la città vedendo negozi, vedendo proprio come era strutturato il posto e tutto il resto mentre nei giorni successivi abbiamo visitato prima Skansen che era un parco naturalistico nel quale abbiamo potuto vedere varie specie di animali orsi bruni, poiché altre bestie c'erano, foche insomma tantissimi esemplari di animali soprattutto nordici, alci e altre bestie del genere purtroppo alcune erano molto timide quindi non siamo riusciti a vederle per niente però tutto sommato è stata una bella esperienza poi abbiamo visitato anche il museo dell'arte moderna che ci è piaciuto veramente tanto perché comunque sono cose abbastanza insolite che uno dice ma questi come gli viene in mente di fare una cosa del genere? che senso ha? e quindi ecco diciamo è stato bello vedere anche qualcosa di fuori dai canoni come è solitamente e qual è stato il bello di questa piccola gita se così vogliamo chiamarla? proprio il fatto che essendo in compagnia tra noi amici che comunque ci conosciamo da tanto tempo solo noi è stato veramente bello e divertente perché poter condividere diciamo tre giorni all'estero insieme ai propri amici è una cosa che veramente auguro a tutti e chi l'ha già fatta magari capisce le mie parole perché è una sensazione davvero stupenda insomma siete solamente voi stessi insieme ai vostri amici dovete cavarvela da soli masticare un po' di inglese e tra l'altro a Stoccolma sapete qual è il brutto che tutte le tutte qualsiasi iscritte tranne qualcuna anche quelle dei ristoranti sono in fottuto svedese e non si capisce una parola quindi io dico perché non mettere anche qualche piccola didascalia in inglese anche sui menu cose del genere così se uno stronzo deve mangiare magari riesce un pochino a capire cosa deve fare non si sa e quindi niente ragazzi davvero poi finito il terzo giorno nel quale abbiamo visitato un po' l'isola più turistica che era Gamla Stand davvero bella siamo tornati in patria c'è stato solo un piccolo problema diciamo che alle 7 e 10 il pilota ci ha detto tra 10 minuti atterreremo all'aeroporto di Falconora perfetto passano 10 minuti l'aereo stava continuamente in obliquo girando non si sa perché e poi ad una certa ripresa ad andare dritto e noi ci siamo detti tipo vabbè andrà un po' più in giù poi tornerà in su magari ha avuto problemi nell'atterraggio dopo 20 minuti l'annuncio dice tra 20 minuti atterreremo all'aeroporto Guiliano Marconi di Bologna perché non siamo riusciti ad atterrare a Falconara a causa maltempo quindi noi diciamo Cristo cosa starà succedendo cioè per non essere riusciti ad atterrare per maltempo vuol dire che là sta buttando giù il diluvio universale ed infatti così era purtroppo poi dall'aeroporto Marconi c'è stato organizzato un bus fino a Falconara alla quale dopo ci sono venuti a prendere i nostri genitori e siamo finalmente tornati a casa comunque è stata un'esperienza veramente fantastica che ecco ho riassunto un po' in 5 minuti così però diciamo che volevo comunque comunicarvi quello che è stato per me questa esperienza auguro davvero a tutti voi di fare viaggi con i vostri amici all'estero perché è veramente molto divertente e formativo dopo tutto perché comunque come vi ho detto prima siete voi da soli in un mondo nuovo e quindi che dire io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto se vi è piaciuta l'idea posso farvelo anche altre volte vi invito a lasciare un mi piace commento se non lo fate di iscrivervi al mio canale noi ci vediamo con un prossimo video bella ragazzi ciao da Zampetti bella